Soprattutto in tempi come questi viene spesso da chiedersi ma come posso fare a risparmiare qualcosa sulla strumentazione che sono costretto a comprare se è il mio lavoro oppure che desidero tanto comprare se è il mio hobby. Mi trovo a scendere a patti con dei prezzi che ormai sono esorbitanti perché la strumentazione progredisce, però per progredire ha dei costi di produzione superiori, oltretutto mancano le componenti, per cui ci troviamo a dover spendere sempre e sempre più soldi per acquistare il nostro corredo. Ebbene, oggi vi svelerò quelle che sono alcune tecniche che ho implementato nel corso degli anni per cercare di spendere un pochino di meno quando vado ad acquistare della strumentazione foto o video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e oggi vi parlerò proprio di questo, di fotografia e di risparmio. Siamo, come ben sapete, in tempo di crisi, lo siamo ormai da così tanti anni che credo che questo video rimarrà attuale per almeno altrettanti, non è una cosa da cui si esce con la bacchetta magica, per cui oggi vi svelo quelle che sono alcune piccole strategie che personalmente ho reputato vincenti quando si va a fare degli acquisti. Prima di cominciare vi ricordo che questo è un canale che tratta temi come la fotografia, il video making e il design. Se questi temi vi stanno a cuore, iscrivetevi adesso a questo canale così rimarrete aggiornati sui prossimi video in uscita. Vi consiglio anche di guardare questo video fino alla fine perché l'ultimo dei miei consigli per risparmiare sulla strumentazione fotografica è forse quello che vi permetterà di fare i risparmi maggiori. Innanzitutto vi dico una cosa, non importa quale sia il vostro livello di preparazione così come non importa quale sia il mio livello di preparazione, io vi consiglio di utilizzare gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione e tra questi strumenti c'è proprio YouTube. Per cui se stiamo per fare un acquisto e siamo indecisi andiamo su YouTube a vedere se qualcuno parla di quella specifica cosa su cui siamo indecisi. Questa è una cosa di cui non c'è assolutamente da vergognarsi, vi dico che è una cosa che faccio io stesso. Quando io devo acquistare qualcosa molto spesso vado a vedere chi ce l'ha già come si è trovato perché un conto sono le specs pure e semplici. Se io vado sul sito del produttore è ovvio che per l'oste il vino è sempre buono per cui quando io vado a vedere le specs verranno esaltati certi aspetti. Ma il 90% di un acquisto è costituito dalle specs quindi il sensore, i megapixel, la velocità, la raffica. A me interessa il rimanente 10%, a me interessa l'esperienza d'uso e l'esperienza d'uso si riesce a carpire molto meglio andando a sentire qualcuno che ne parla, magari vedere qualcuno che tiene in mano quell'oggetto che vogliamo comprare. Quindi questo è un aspetto che personalmente reputo molto utile. A questo proposito vi lascio in card la mia playlist con i prodotti che io ho recensito, quindi prodotti che possiedo, che ho posseduto o che ho noleggiato o comunque che ho avuto modo di provare. Ve la lascio in card sperando che possa essere di aiuto per qualcuno. Ora una cosa che a molti potrà non far piacere, ma io vi dico che di solito andando a fare i nostri acquisti su Amazon si riesce a risparmiare qualcosa. Ora questo era molto più vero in passato rispetto che oggi, perché per almeno due motivi. Il primo è che i negozi si sono resi conto della concorrenza di Amazon con 15 anni di ritardo ma se ne sono resi conto. E quindi se una volta si riusciva a risparmiare parecchio su Amazon, adesso i negozi hanno capito che la gente compra su Amazon se i prezzi sono così diversi e quindi i negozi hanno abbassato un pochettino i prezzi. Io mi ricordo, vi faccio per dire, quando ho comprato il 100 mm macro, mi ricordo che in negozio costava 1.400, ok? Io lo acquistai su Amazon e me lo portai a casa per 1.200, cioè 200 euro di differenza su una cifra che non è neanche così voluminosa, però 200 euro di differenza. Capite che a questo punto a me dispiace per il negozio, perché obiettivamente mi dispiace, però lo compro su Amazon perché mi costa 200 euro di meno. Ora a questo proposito vi dico anche una cosa, in tantissimi mi hanno detto, ma ti fidi ad acquistare le cose su Amazon? Soprattutto cose costose, perché comunque hanno un bel costo, cioè non stiamo comprando una penna a sfera. E cose anche delicate, perché comunque una lente, un corpo macchina, se prendono dei colpi durante il trasporto non si sa mai come ti arrivano. Ragazzi, io vi dico una cosa, l'80% del mio corredo viene da Amazon, quindi io ho sempre acquistato su Amazon cose costose, cose fragili, sono sempre arrivate in condizioni perfette, le sto utilizzando da anni, quindi non è che si rompono dopo un po', all'inizio funzionano e poi si rompono, no! Arrivano in perfetto stato e funzionano benissimo e abbiamo risparmiato qualcosa. Ora purtroppo vi posso anche dire che questo era molto più vero anni fa rispetto ad adesso, come dicevo poc'anzi, quindi oggi è più difficile trovare dei modi di risparmiare su Amazon, ma è sempre possibile trovarne. E vi dico anche una cosa, i prezzi su Amazon non sono fissi ma girano, quindi è possibile che se andiamo a vedere un prezzo su Amazon ed è vicino a quello del negozio, se andiamo a rivederlo una decina di giorni dopo è possibile che sia cambiato, ogni tanto ci sono degli sconti, quindi è anche possibile risparmiare andando ad acquistare in certi periodi, oppure utilizzando i Prime Days, utilizzando i periodi in cui Amazon mette a disposizione degli sconti ulteriori, è possibile risparmiare in questo senso. Ed è vantaggioso perché il prodotto è lo stesso e ci arriva in condizioni perfette. Senza contare che su Amazon c'è anche più scelta. Io mi ricordo le ultime volte che sono andato in un negozio fisico. Ora, l'ultimissima volta che sono andato in un negozio fisico è stato per tagliarmi le vene e comprare Cannoneos R7, quindi ci sono anche dei lati vantaggiosi nell'andare in negozio certe volte. In questo caso specifico, avendo controllato su Amazon e avendo trovato il pezzo che mi interessava a 1.600, ed essendo poi andato sul sito di un negozio locale, il mio negozio di fiducia diciamo, e avendo trovato la stessa cosa a 1.530, beh lì va da sé che vado in negozio. La trovo subito e me la porto via subito invece di dover aspettare che mi arrivi la consegna e la pago anche di meno, a quel punto è evidente che per me è vantaggioso. Però mi ricordo altre volte che sono andato in negozio, vorrei una memory card, ce l'avete una memory card veloce per registrare video in 4K da 128 GB? Mi ricordo le loro facce, mi hanno guardato come dire questo è un marziano e mi hanno detto no guarda non le chiede nessuno quelle cose lì, sono cose da professionisti quindi noi non le abbiamo più. Se vuoi possiamo farteli arrivare in 15 giorni se ci lasci una caparra del 50%. E dico ma come scusa? Cioè se io l'acquisto su Amazon mi arriva domani, non devo dare nessuna caparra e la pago 10 euro in meno. E a quel punto è evidente che uno compra su Amazon, quindi c'è anche questo problema. In negozio spesso non c'è a disposizione quello che ci serve. Lo fanno arrivare sì ma loro non comprano su Amazon, hanno degli altri canali di approvvigionamento che ci mettono quattro volte di più. Mentre con Amazon, io sono utente Prime quindi siccome compro tanto su Amazon ho preso Amazon Prime quando io compro una cosa mi arriva il giorno dopo. Quindi per me è estremamente vantaggioso. Devo sempre stare a vedere, a fare la differenza tra Amazon e il negozio perché ogni tanto, soprattutto di recente, ogni tanto i prezzi non sono più così diversi. Anzi, ogni tanto ci sono delle sorprese, ogni tanto Amazon costa addirittura di più. Ma è bene controllare. A proposito di comprare online, esistono anche i mercati dell'usato. Ora, io sono qui per parlarvi malissimo dei mercati dell'usato. Perché? Ma perché lo sapete già. Perché quando acquistate un usato non sapete mai chi vi trovate davanti, non sapete mai cosa vi è in fila, non sapete mai nemmeno quanto costa. Perché comunque in Italia noi purtroppo abbiamo questa cosa un po' arabbeggiante del mercanteggiare sempre. Io mi sono trovato, non spesso, ma ogni tanto a rivendere qualcosa come anche a comprare qualcosa. E devo dire che ho avuto più problemi quando vendevo che quando compravo. Perché quando vendi ti ritrovi puntualmente di fronte a qualcuno che ti dà appuntamento. si presenta e una volta li tratta sul prezzo. Che è una cosa insopportabile. Perché se volevi trattare sul prezzo ti dicevo di no subito. Se mi fai venire lì per niente e poi tratti sul prezzo uno si attrezza anche. Nel senso che se ti chiedevo 100 euro online e poi tu mi chiedi di farti 50 quando arriviamo lì e la prossima volta io metto 500 online e così arriviamo e mi dai 200. Cioè se vogliamo fregarci alla fine facciamo tutti così. Il problema però si pone anche dall'altra parte. Perché spesso e volentieri quando vai a comprare qualcosa di usato non dico che arrivi lì e avevate patteggiato 100 e quello ti chiede 200. Questo di solito non succede. Però spesso e volentieri vi eravate accordati per un oggetto di cui si era parlato e che vi era stato descritto come pari al nuovo e poi non è assolutamente così. Oppure si era parlato di un oggetto con scatola, libretto, istruzioni e garanzia e quando arrivate invece non è così. Oppure si era parlato semplicemente di un oggetto funzionante e poi quando arrivate non è così. Per questo motivo io vi straconsiglio quando acquistate usato di provarlo in tutte le salse. Vi consiglio di accendere tutto, di fare delle prove, di muovere tutto quello che potete muovere cursori, bottoni, joystick, barilotti, tutto quello che potete provare, diaframma, qualsiasi cosa stabilizzatore, messa a fuoco, provate qualsiasi cosa e al minimo in top mollate l'acquisto perché spendere dei soldi per comprare una cosa che poi non funziona e che non avete nemmeno rotto voi è veramente un peccato. In generale io vi sconsiglio l'usato, in generale io ve lo sconsiglio e vi dico perché io tratto la mia strumentazione come se fosse la mia figlia piccola praticamente cioè io preferisco prendere una botta io piuttosto che farla prendere la mia strumentazione di solito la mia filosofia è questa a meno che non sia una ruspa che sta passando e che schiaccia tutto ma se devo prendermi una porta che si sta chiudendo preferisco prendermi una bottarella io perché io guarisco, la mia strumentazione no. Questa è la mia filosofia di base e quindi se comprate qualcosa da me questo vi trovate vi trovate una cosa che è pari al nuovo ma assolutamente pari al nuovo tutt'al più può avere un chicco di polvere sopra ma questo è il massimo danno che vi beccate da me non sono tutti così. Io ho visto gente durante il lavoro prendere la sua fotocamera, la sua attrezzatura, il suo obiettivo e appoggiarlo nella polvere per terra, proprio nella terra, nello sterrato. Ho visto gente cambiare l'obiettivo in stanze piene di polvere quindi con tutta la polvere che entrava dentro nel sensore tu dici come facevi la stanza era quella e ti allontanavi, trovavi il modo, cambiavi la lente dentro in uno zaino qualsiasi cosa ma non così. Quindi questo per dirvi che c'è gente che le cose le tratta benissimo, forse troppo e c'è gente invece che le tratta male, forse troppo e voi non sapete quale delle due persone vi sta vendendo un pezzo quando siete fortunati ve ne accorgete perché ogni tanto vi fanno vedere il pezzo e dici questo pezzo è conciato da sbatter via non te lo compro ma certe volte invece non ve ne accorgete perché il danno è dentro in generale io vi sconsiglio sempre di acquistare usato perché state spendendo metà della cifra e non avete la garanzia che quella cosa funzioni e non avete la garanzia che quella cosa funzioni a lungo come una cosa nuova per cui il mio consiglio rimarrà sempre di acquistare nuovo perché con l'usato purtroppo non ci sono garanzie. Un altro metodo che io reputo efficace per risparmiare, passatemi il termine è comprare cose di qualità quindi al di là di comprarle nuove ma anche comprare cose di qualità perché dico che comprare cose di qualità vi farà risparmiare? Le cose di qualità costano, lo sappiamo tutti soprattutto in fotografia, più vuoi più paghi sì, è vero, però è molto meglio andare mirati e comprare una cosa bella e quindi spendere, che ne so, mille euro per comprare una cosa bella è molto meglio piuttosto che dire prendo una schifezza la pago 200 mi fa schifo va bene prendo una cosa un po' più bella spendo 400 sì, è bella, però non sono ancora soddisfa dai, chi se ne frega prendo la cosa bella, spendo mille e raga abbiamo speso mille a sto punto era meglio spendere mille subito questa è sempre stata la mia filosofia compra quello che vuoi compra la cosa bella che vuoi non prendere delle cose che non ti vanno bene perché poi ci hai perso poi ti trovi a dire allora questa mi fa schifo la devo dar via la devo vendere quindi l'ho pagata 200 però adesso mi danno 70 perché non ti danno più la cifra intera è come le automobili si depreciano immediatamente quindi ti danno la metà quando la rivendi anche se la rivendi il giorno dopo a scatola chiusa ti danno la metà quindi ci hai perso oppure ci hai della roba che rimane lì inutilizzata quindi comunque secondo me se vuoi spendere poco spendi bene spendi subito compra quello che vuoi non fare il braccino corto su queste cose perché poi ci sono due strade possibili o ti tieni una cosa che non ti piace oppure spendi il doppio hai comprato una cosa che non ti piace poi ti compri anche quella giusta quindi è meglio spendere bene subito risparmiare vuole anche dire fare un acquisto con la testa ovvero se io sto comprando una cosa che costa tanto ci penso sempre due volte perché non ho voglia di fare un acquisto corposo che poi non mi frutta per cui io ragiono sempre anche in quest'ottica se devo fare un acquisto grosso lo faccio ma lo faccio se so che questo acquisto mi si ripaga cioè se io devo comprare una strumentazione che poi non uso o che poi uso poco o che non uso per lavorare lì sono un po' in difficoltà io di solito compro qualcosa che so che utilizzo per lavoro compro qualcosa che so che mi frutterà per cui se io compro una macchina fotografica da 2000 euro però penso sì però nei prossimi 5 anni io la uso e alzo i prezzi ho comprato una strumentazione nuova quindi invece di 100 euro a uscita chiedo 120 euro a uscita perché ho la strumentazione nuova e beh se faccio 10 uscite sono 200 euro in più quindi nel corso di un anno sperando di fare almeno 10 uscite al mese e siamo lì me la sono sostanzialmente ripagata in un anno e poi da lì vado a guadagnare rimane vantaggioso per me fare un acquisto anche grosso se so che me lo ripago questo è un ottimo ragionamento di base è un ottimo mindset quello di pensare va bene questa roba costa costa tanto mi girano le palle perché veramente tanto però me la ripago so già che me la ripago con i lavori che ci faccio e allora ha senso la cosa però secondo me più importante e infatti apposta l'ho lasciata alla fine è proprio questa cerchiamo di capire che cosa ci serve e vi faccio il mio esempio così capite escono le mirrorless e io all'inizio le snobbo un po' perché all'inizio dico ma chi se ne frega delle mirrorless io ho la 5D ho tutto quello che mi serve ho un sacco di camere un bel parco lenti non mi serve quella roba quella roba da ragazzini poi però osservo il fenomeno in crescita e dico cavolo però sono belle ste camere cioè sì non cambia niente io sono un fotografo vecchio stile scatto vecchia maniera non me ne frega niente di tutti quei punti di messa a fuoco non li userò mai non me ne frega niente di avere sempre il display acceso queste per me sono sono stupidaggini non mi interessano non cambiano il mio flusso di lavoro anzi semmai lo modificano ma in un modo che non mi piace sì però sono belle e quindi un bel momento dai bisogna prenderne una anche perché il mondo cambia le ottiche EF vanno a essere dismesse i corpi reflex vanno a essere dismesse quindi non puoi rimanere con la strumentazione di vent'anni fa bisogna andare a vedere come funzionano questi nuovi modelli per non perdere il treno non puoi prenderne una fra vent'anni e dire ok adesso devo capire tutta questa nuova tecnologia no bisogna prenderla un po' in corsa per cui mi armo di santa pazienza e vado a cercare di scoprire che cosa può fare per me e la mia scelta si impallina su due modelli sostanzialmente che sono Canon R6 e Canon R7 e io alla fine scelgo R7 scelgo la meno costosa quindi ho fatto esattamente il ragionamento che vi vado a riproporre il ragionamento è questo per cosa la userai la userai per fare foto grandangolari no non tanto perché quando devo fare foto grandangolari fotografia pura io utilizzo molto spesso la 5D Mark II ancora quindi una camera molto vecchia ma se devo fare foto di interni grandangolo uso il bracketing la fotografia HDR non mi serve la mirrorless non mi serve la velocità per fare una cosa in un contesto statico non mi serve a niente per cui utilizzo la 5D oppure la Mark IV oppure la 6D insomma ne ho di full frame che posso utilizzare per fare fotografia grandangolare statica non è quello il mio problema per cosa utilizzerò la mirrorless allora? per fare video per fare video grandangolari di grandi spazi per fare video real estate no perché non mi capita quasi mai che mi chiedano video real estate sostanzialmente mai mi è successo una volta nella vita di solito mi chiedono dei video ma dei video corporate quindi io posso cavarmela con un 24-70 croppato quindi con un 24-70 moltiplicato per 1,6 che è quello che sto utilizzando in questo momento per fare questo e altri tipi di video sempre di questo tipo io utilizzo un 24-105 o un 24-70 dipende e non sto nemmeno utilizzando la versione L quindi vedete che anche con una lente senza l'anello rosso la qualità mi sembra più che decente la ripresa è assolutamente ottimale quindi non c'è bisogno sempre di spendere una fraccata assurda di soldi io ho proprio fatto questa scelta perché mi sono detto le cose in più che avrei su R6 non mi servono così tanto R6 costa mille euro di più quindi vado su quello che costa un pochettino di meno perché con quello che costa un pochettino di meno ho tutto quello che mi serve cercare di capire la strumentazione e rapportarla ai propri bisogni tecnici e artistici è secondo me la cosa fondamentale per cercare di risparmiare qualcosa perché altrimenti se io avessi dovuto dire prendo la camera migliore che posso avere avrei dovuto prendere Canon EOS R3 e sono 7000 euro di corpo macchina e poi avrei dovuto abbinargli una lente figa perché su una camera così mettere un lentino non ha senso quindi avrei speso una fracca assurda di soldi sostanzialmente mi sarei trovato ad andare a fare la spesa con una Porsche che non è la cosa migliore da fare perché se io devo andare a fare la spesa è meglio una station wagon se devo andare a correre è meglio una Porsche però sono due cose diverse capite? cioè la Porsche è meglio della station wagon? sì costa 20 volte di più è più veloce consuma di più quindi ti dà di più ma ti chiede anche di più e molte volte bisogna porsi questa domanda bisogna dirsi ok ma a me questa macchina serve perché devo fare la corsa della mia vita devo andare a Monte Carlo in macchina perché devo consegnare un rene a una persona che se no muore oppure devo andare a fare la spesa qui dietro al Carrefour perché se devo andare a fare la spesa qui dietro è inutile che compro una Porsche è sufficiente che compro una giardinetta bene amici ora che vi ho svelato tutti i miei segreti io vi invito a lasciare un like a questo video se avete imparato qualcosa scrivete nei commenti se avete domande specifiche su qualcuno dei punti trattati in questo video o se c'è qualche punto su cui volete delucidazioni e io vi do appuntamento al prossimo video ciao